Ciao e benvenuti in un nuovo video e questo era un video che era da molto tempo che volevo fare perché da un po' che ho letto questo libro bellissimo e avevo proprio voglia di parlarvene e avevo proprio voglia di parlarvene anche perché è un libro di cui si parla molto molto poco. Il libro è Il Trono del Drago, come avrete notato dalla thumbnail su cui avete cliccato, ed è un libro edito nel 1988 e scritto da Todd Williams. La particolarità di Todd Williams è essere poco conosciuto e molto amato invece dai suoi colleghi scrittori. Naturalmente quando dico poco conosciuto non sto dicendo che è un autore misconosciuto russo morto a 16 anni, suicida. è comunque un autore noto nel panorama fantasy, ma di cui si parla molto meno di suoi colleghi molto più osannati che paradossalmente hanno passato la loro vita a dire quanto è bravo Todd Williams. Tra questi colleghi, tra questi colleghi che hanno proprio volontariamente ammesso che molta parte del loro lavoro la devono al lavoro di Todd Williams su Il Trono del Drago, che in inglese è The Dragon Bone Chair, quindi in realtà è più il trono di ossa di Drago. Dicevo, tra questi colleghi ci sono Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss e soprattutto George Martin, che deve moltissimo proprio al Trono del Drago. Ma iniziamo a dire due parole sulla trama, perché la storia inizia in maniera molto simile a Game of Thrones. Infatti tutto parte quando un re che ha riunito vari regni sotto il suo muore e morendo naturalmente lascia aperta la successione, successione che scatena quella che è una vera e propria guerra tra i regni assoggettati precedentemente appunto da questo grande re. La particolarità del Trono del Drago è essere una sorta di ponte tra il fantasy molto classico di origini tolkieniane e il modern fantasy. E naturalmente alla fine di questa catena evolutiva trovate Martin, quindi non vi aspettate un altro Martin, ma diciamo che Martin è la conseguenza, il gioco dei troni, Game of Thrones è la conseguenza di quello che ha fatto Todd Williams prendendo tutti i classici tropi del genere e trasportandoli un passo avanti verso l'età del modern fantasy. Quindi quello che non troverete in Todd Williams è il ritmo dei modern fantasy. Infatti ho letto molto spesso una critica al suo lavoro, cioè al fatto che le prime 100, direi anche 200 pagine del romanzo, sono lente. Ecco, la lentezza nella scrittura io trovo che sia un valore molto molto soggettivo. Se avete letto letteratura russa sapete che ha un ritmo decisamente diverso da quella anglosassone e nella stessa maniera il fantasy di origine tolkieniana ha ritmi molto diversi da quelli del grimdark più moderno, appunto quello di Martin, Amber Cromby, ma anche Brandon Sanderson che per quanto non faccia grimdark ha comunque un elemento di modernità nel ritmo della scrittura. Ecco, ripeto, questo non lo troverete in Todd Williams, ma al suo posto, secondo me c'è una lentezza voluta, ricercata, che ho trovato molto confortevole. È proprio stato un comfort reading leggere le prime pagine del Trono del Drago. Infatti seguiamo la storia di questo giovane orfano sguattero nelle cucine. Potete immaginarvelo un po' come semola della spada nella roccia, sia che abbiate letto il bellissimo Il re che fu, Il re che sarà, che abbiate visto la sua versione animata, cioè il super classico della Disney, La spada nella roccia, ritroverete un po' quelle atmosfere. Le prime pagine del Trono del Drago sembrano essere la storia di semola prima che arrivi al castello Merlino. E il nostro protagonista assomiglia un pochino a semola perché, ripeto, è uno sguattro di cucina, è un orfano, ha delle origini un po' misteriose, esattamente come quei classici appunto del fantasy tolkieniano, è un po' un predestinato. Però secondo me è proprio in questo suo avvio molto lento, molto ponderato, in cui Todd Williams inserisce una cosa davvero molto interessante perché spesso, molto spesso, in questo tipo di narrazioni siamo un po' conniscenti, i personaggi tendono a sapere un po' tutto della storia, anche se non si troverebbero nella posizione di avere libero accesso a quelle informazioni. Mentre Todd Williams, attraverso la vita di Simon, ci racconta pezzi della storia, a frammenti della storia più ampia del panorama politico, degli intrighi della corte. Ed è proprio quello che non sappiamo, i pezzi che mancano a Simon, che sono la parte più interessante della narrazione, quei vuoti tra un'informazione e l'altra. Siamo effettivamente infilati a forza nei panni di Simon e molte cose della storia non le sappiamo. E, ripeto, ho trovato molto interessante questo approccio. E aggiungiamo anche questa cosa. A differenza di molti suoi colleghi, suoi colleghi autori fantasy, che di solito stanno più attenti alla trama, alla costruzione del racconto, piuttosto che alla scrittura, Todd Williams è anche un ottimo scrittore, oltre ad essere un ottimo autore. Vi faccio degli esempi presi dal romanzo, piccole cose, semplicemente per farvi vedere che all'interno della sua scrittura ci stanno delle piccole gemme, delle cose davvero piacevoli da leggere. Tra l'altro ho letto il romanzo in inglese, in e-book, e poi solamente dopo ho riletto parecchia roba in italiano. La traduzione è ottima, ma molta della bellezza della scrittura di Todd Williams, della fluidità, della scelta dei termini si perde naturalmente nella traduzione. Però ripeto, ci sono delle cose belle anche in italiano. Ve ne leggo qualcuna. Ecco, ad esempio qua parla di Simon che spia una conversazione e dice silenzioso come un fiocco di cotone, cercò di scoprire la direzione delle voci. Silenzioso come un fiocco di cotone è davvero una metafora bellissima, una similitudine bellissima. Oppure ancora, allora il silenzio della foresta tenebrosa tornò e circondò il piccolo fuoco da campo come gli abissi della notte abbracciano una stella morente. Anche qua, molto bella, poetica, l'immagine di questo buio che abbraccia questo piccolo fuoco che però viene immaginato gigante, appunto una stella morente che sta venendo cinta dall'abbraccio del buio del cosmo. Ancora, durante una scena di combattimento in un grande assedio, c'è una scala che viene rispedita indietro, viene buttata giù da un muro e dice Per un attimo la scala restò in bilico fra terra e cielo, poi cadde all'indietro e similò soldati come frutti da un ramo scosso. Anche qua, bellissima la similitudine tra la scala e il ramo, i frutti e le persone, i soldati che vengono sbattuti giù da questa scala rimandata al mittente. Davvero molto molto belle queste similitudini, tutte queste metafore sono davvero interessanti, non sono mai scontate e molto spesso nel fantasy sono trite e ritrite. Mentre invece, ripeto, Williams fa una ricerca linguistica, cerca effettivamente di elevare la sua scrittura oltre che la sua trama. Detto questo, Il Trono del Drago è comunque un romanzo fantasy molto aderente ai tropi del classic fantasy. troverete un po' di tutto, troverete appunto il ragazzo predestinato, l'orfano predestinato, il farm boy che viene gettato all'avventura, proprio come nel classico Viaggio dell'eroe, troverete tutto l'arco narrativo del Viaggio dell'eroe. All'interno della narrazione ci sono anche i grandi oggetti magici, gli artefatti magici, in questo caso sono tre spade e non una sequela di anelli come nel Signore degli Anelli, però siamo da quelle parti. Eppure ogni volta che viene introdotto uno dei tropi più utilizzati del fantasy, quel luogo comune viene spostato di un passetto più vicino all'epoca del modern fantasy. Prendiamo ad esempio Simon, il protagonista classico orfano dalle origini misteriose che finisce per imbarcarsi in questa grande avventura e per mettersi sulle spalle il peso del destino del mondo nella maniera più classica in assoluto. Eppure molto spesso in questo tipo di narrazioni avviene molto repentinamente il passaggio da farm boy quindi il giovane Luke Skywalker che vive tra le dune e spara ai topi impara velocemente a diventare l'eroe. Ecco secondo me nel racconto di Williams il passaggio da ragazzino comune ad eroe è molto più organico ci arriva in maniera molto più lenta ripeto è un libro che si prende i suoi tempi uno slow born come direbbero gli americani e facendo questo aggiunge una dose di realismo al personaggio ho letto di alcune recensioni che dicono che Simon è un po' noioso un po' lamentoso eppure se immaginiamo un ragazzino che ha vissuto per tutta la vita a castello in una corte rinchiuso in un nido che viene sbattuto fuori dalle porte del castello non è possibile per lui ritornare indietro si imbarca in un'avventura pazzesca in cui non ha da mangiare non ha soldi se becca addosso tutti i casini del mondo ecco allora forse capisco di più che un ragazzino in questa situazione diventi appunto come è stato definito da alcune persone lamentoso cioè si sta lamentando perché non è abituato a fare quella cosa mentre invece ripeto ogni tanto stride un po' questa cosa questo passaggio nelle narrazioni fantasy diventano subito super fighi i personaggi ecco non succede questo a simon però il modo in cui matura gradualmente secondo me dà ancora più soddisfazione e sposta un pochino verso il realismo questo appunto passaggio di trama poi la narrazione di williams è una di quelle narrazioni che si poggia sul sense of wonder infatti nel momento in cui simon lascia il castello deve abbandonare il castello non vi dico perché ma deve abbandonare il castello si avvia verso un viaggio che ci fa scoprire il mondo di austen hard il continente in cui è ambientata la storia e questa scoperta è una scoperta repentina violenta per lui e lo è anche per il lettore che si vede aprire di fronte a lui un mondo vastissimo e incredibilmente affascinante pieno di razze di popoli di linguaggi di culture di religioni e tutto viene costruito in maniera sapiente da Williams che aggiunge un pezzo alla volta alla sua creazione per formare un mondo davvero grande ed ecco ogni tanto l'ho detto anche riguardo ai giardini della luna di Ericsson una delle cose che mi è piaciuta di quel romanzo e che mi è piaciuta di questo romanzo è che mentre il grim dark il modern fantasy ultimamente si è un po' arenato su questo realismo quasi un po' esasperato e quindi non ci sono più gli oggetti magici non ci sono più razze diverse dagli esseri umani ecco invece in Williams ci sono troll ci sono elfi ci sono giganti draghi e cavolo sì sì se fatte bene queste cose se non sono stucchevoli effettivamente sono quello che cerco in un fantasy perché mi piace il grim dark di Abercrombie ma il sense of wonder del grande fantasy con il world building gigantesco mille razze diverse gli oggetti magici rimarrà sempre nel mio cuore perché è quello che mi ha avvicinato a questo genere ma dopo aver parlato della parte più classica del racconto di Williams vale anche la pena accennare a quello che dicevo all'inizio del video cioè al fatto che questo è un romanzo che fa un po' da ponte tra moderno e classico nel fantasy e in che modo lo fa? lo fa soprattutto aggiungendo alla solita ricetta del fantasy l'intrigo l'intrigo di corte la politica e lo fa in maniera ancora embrionale è l'embrione di quello che sarà il grande gioco dei troni di Martin ma c'è tutto non è grimavermilinguo che è il cattivo lo sanno tutti dal minuto 1 da quando legge il suo nome sulla pagina in questo caso i ribaltamenti di fronte le pugnalate alle spalle arrivano in maniera effettivamente inaspettata e gli stessi due fratelli che si stanno contendendo questo regno dopo che è morto il re non sono per niente scontati nella loro caratterizzazione perché se è vero che uno è il classico eroe pronto a prendere le retini del regno e l'altro invece è tutto un po' più scuro ha le occhiaie non ha una mano si veste de nero potrebbe riservarvi qualche sorpresa anche questa caratterizzazione che sembra così lampante e ripeto classica però non voglio fare spoiler non voglio fare spoiler di nessun tipo perché l'avventura che vi aspetta leggendo il trono del drago è un'avventura vecchio stampo con lo sguardo verso il futuro e in ogni sua parte assolutamente entusiasmante quindi per concludere se siete disposti a dare un po' di tempo alla narrazione per partire ripeto sono 100 200 pagine su 800 più o meno del primo romanzo se siete disposti ad accogliere i tropi del fantasy classico a braccia aperte e accettare che è un mondo più fantastico del solito grimdark allora vi assicuro che questo è il libro per voi e con questo era tutto spero che questa piccola recensione del trono del drago vi sia piaciuta se il video è stato utile vi invito a mettere un like iscrivervi al canale e attivare le notifiche noi se tutto va bene ci vediamo in un prossimo video il prossimo venerdì ciao